A tutti voi buonasera dal TG Max, c'è pericolo di stabilità per il ponte sull'Aventino che collega Guarena di Casoli a Selva di Altino, la provincia lo chiude per almeno 8 mesi. Il ponte ha chiuso il ponte sull'Aventino della ex statale 84 che collega Contrada Guarena di Casoli a Selva di Altino, è a rischio la stabilità della struttura, dicono i tecnici dell'ente che da oltre due anni monitorano il ponte, a compromettere la solidità dell'opera di attraversamento del fiume stesso che nel corso degli anni è diventato sempre più a carattere torrentizio. La mancata manutenzione dell'alvio, testimoniata da una vera e propria foresta di alberi cresciuta nel letto del fiume, ha costretto l'acqua a cercarsi un percorso alternativo. Il risultato ora è sotto gli occhi di tutti, erosione lungo le sponde e lo scalzamento del terreno che copriva i pali della briglia di protezione del ponte a Valle delle Campate. Le prime segnalazioni dello stato di pericolo risalgono al 2003, dicono in provincia, ma solo ora si è deciso di chiudere l'attraversamento a tutela dell'incolumità pubblica. In caso di eventuali forti temporali e in concomitanza del disgelo delle nevi, la struttura potrebbe non reggere ad una portata d'acqua maggiore del fiume. Per tempi e modalità di ristrutturazione messa in sicurezza del ponte bisognerà attendere i risultati dei sopralluoghi tecnici. Intanto il traffico veicolare nell'area, a forte vocazione commerciale e di passaggio per pendolari e merci tra la Val di Sangro industrializzata, la zona montana e il capologo frentano, è deviato sulla Fondo Valle Sangro. Ecco dunque i danni di quell'ambientalismo del non si tocca nulla e che con la tutela dell'ambiente è davvero ben poco a che vedere. Ora tutta la collettività pagherà le scelte di politiche sbagliate in nome di una tutela che di fatto non c'è stata, mentre gli alberi continuano a crescere nel letto del fiume. La provincia di Chieti si candida a diventare la porta dei Balcani all'interno della macroregione adriatico Ionica. Questa mattina il presidente di Giuseppe Antonio ha ricevuto delegazioni di Bosnia, Croazia e Montenegro. La provincia di Chieti stringe i primi accordi per realizzare progetti di partenariato in vista della nascita della cosiddetta macroregione adriatica e nella sede istituzionale si è svolto l'incontro con le delegazioni della Croazia, della Bosnia e del Montenegro, al quale hanno partecipato l'assessore al turismo Remo Di Martino, il direttore affari generali della regione Abruzzo Antonio Sorgi e il presidente della provincia Enrico Di Giuseppe Antonio che ascoltiamo. Dobbiamo prepararci con concretezza all'appuntamento del 2014 quando ci sarà la presidenza italiana dell'Unione Europea e nascerà questa grande entità, la macroregione adriatico ionica che servirà a rafforzare i legami millenari che ci sono tra le due sponde dell'adriatico e dello ionio ma soprattutto a promuovere iniziative economiche, culturali, di integrazione molto importanti che servono a rendere questa macroregione più forte in Europa, più forte nel mondo. Certo, il 2014 con la presidenza italiana noi dobbiamo essere preparati a predisporre progetti economici, culturali che possano coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. Oggi abbiamo un incontro con la delegazione del Montenegro, della Bosnia e della Croazia appunto per costruire le ragioni che promuoveranno lo sviluppo tra queste regioni dell'adriatico ma serve soprattutto a promuovere quello sviluppo utile per dare prospettive economiche migliori alle nostre regioni. Dal 2006 al 2010 è evaso il fisco per 7 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Lanciano ha denunciato un 44 anni di archi, già noto alle forze dell'ordine, all'uomo. Un impresario di spettacoli danzanti e musicali, la Guardia di Finanza ha sequestrato auto, immobili e terreni per 500 mila euro. L'indagine è partita un anno fa sull'iniziativa della tenenza di Lanciano che ha proceduto sulla base del confronto tra la banca dati fiscale e il tenore di vita dell'uomo. Buste paga più pesanti senza gravare troppo sulle imprese attraverso una diminuzione del costo del lavoro. Si basa su questi due principi, l'accordo raggiunto tra l'Associazione Costruttori Edili di Chieti e i sindacati per il rinnovo del contratto collettivo provinciale del settore. Accordo raggiunto tra Associazione Costruttori Edili di Chieti e organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo provinciale del settore edile. Le buste paga dei lavoratori registreranno un aumento di 25 euro in più al mese oltre alle indennità menze e trasporto adeguate agli indici istat. L'aumento delle buste paga però non peserà troppo sulle imprese grazie ad una diminuzione del costo del lavoro. La provincia teatina è una delle 15 in Italia ad aver rinnovato l'accordo. Un passo importante per il settore che negli ultimi tre anni ha perso circa 2.500 posti di lavoro. Rocco Di Marzio, coordinatore della Commissione per il rinnovo del contratto di secondo livello. È un importantissimo strumento per le nostre imprese e per i nostri lavoratori. Credo che nel rinnovo quest'anno siamo riusciti insieme con le organizzazioni sindacali a creare un contratto equilibrato che da una parte, pur nel momento di fortissima crisi che attanaglia il nostro settore, non penalizza il salario degli operai e le altre contribuzioni e assistenze che vengono erogate nel nostro settore e contemporaneamente rappresenta un risparmio per le imprese avendo diminuito il costo del lavoro e avendo diminuito tutti gli oneri che comunque gravano sul costo del lavoro. Aveva un vero e proprio arsenale legale in casa. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Alba Adriatica. L'uomo Alfiero Luciani, 58 anni, era stato fermato per un normale controllo ma i suoi precedenti penali hanno spinto i carabinieri ad effettuare una perquisizione domiciliare. Complessivamente sono venuti alla luce un fucile automatico calibro 20 a canne mozze risultato rubato all'Aquila a marzo e con la matricola Brasa due pistole semi-automatiche calibro 9,765 risultati rubati a Teramo nel 2009 due coltellacce e due pistole scacciacani prive del tappo rosso e un migliaio di pezzi fra munizioni e cartucce. Luciani è stato arrestato con l'accusa di ricettazione e detenzione legale di armi da sparo alterate e munizionamento. Sono circa 21.000 gli studenti abruzzesi tra i 6 e gli 11 anni che saranno coinvolti nel programma comunitario di educazione ambientale Frutta nelle scuole. L'iniziativa è stata presentata oggi nella scuola Fonte Grande di Ortona. Presentato a Ortona Frutta nelle scuole, programma comunitario di educazione alimentare rivolto agli alunni delle scuole primarie. Fa parte del progetto anche Orogel Fresco, capofila del raggruppamento di imprese che per il secondo anno consecutivo distribuisce frutta e verdura in Abruzzo. Un progetto importante a cui l'Abruzzo ha aderito da subito perché credo che la dieta mediterranea che ha avuto un riconoscimento dall'UNESCO debba essere propagandata soprattutto ai nostri ragazzi, alle nuove generazioni che magari non conoscono le bontà che l'Abruzzo o comunque l'Italia mette a disposizione. Soprattutto i ragazzi, io mi ricordo quando ero piccolino, insomma, i miei figli, ma insomma in generale so che i bambini sono svogliati, preferiscono non mangiare verdura, preferiscono non mangiare frutta, preferiscono magari le merendine. I dati d'altronde sull'obesità non sono così allarmanti in Abruzzo, così come magari nel resto d'Italia o nei paesi anglosassoni, però cominciano ad avere percentuali su cui bisogna stare a tendere. È scontato dirlo, ma è vero, i bambini non consumano molta frutta. I dati di Occhio alla Salute, che è l'indagine che viene fatta ogni due anni dal Ministero della Salute e dell'Istruzione, dimostrano che ben l'80% dei bambini fra 8 o 9 anni non fa una merenda di metà mattina adeguata. Il metodo attraverso il quale questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto è far fare ai bambini un consumo collettivo di frutta, cioè farli mangiare insieme, dimostrare loro che mangiare frutta e verdura non semplicemente fa bene, perché lo sanno che mangiare frutta e verdura fa bene, ma che effettivamente si può fare. Quest'anno abbiamo coinvolto circa 21.000 ragazzi dai 6 agli 11 anni delle quattro province. C'è una leggera defaianza per i ragazzi delle scuole dell'Aquila, ma sappiamo il motivo, speriamo che il prossimo anno anche l'Aquila risponda bene, così come hanno fatto le altre tre province. Era ricercato per la tentata estorsione e il danneggiamento nei confronti di connazionali transessuali taglieggiati mentre si prostituivano sulla bonifica del tronto nel Terramano. Rogerio De Toledo, 44 anni e brasiliano, si è costituito oggi in questura insieme ad altri due connazionali, chiedeva il pizzo per poter utilizzare un tratto di strada della bonifica del tronto per addescare i clienti. Alle vittime che si rifiutavano di pagare venivano danneggiate le auto utilizzate per gli incontri a luci rosse con i clienti, mentre sul viso veniva gettato del liquido irritante. Procedono con cautela vasto i lavori in Piazza Rossetti dopo il ritrovamento di resti di epoca romana. Su disposizione della sovrintendenza e beni archeologici d'Abruzzo, i lavori di scavo nell'anello di Piazza Rossetti a Basto procedono con molta cautela. Nell'area sottostante, la Torre di Bassano, gli operai dell'impresa Cirulli di Schiavi d'Abruzzo che stanno eseguendo i lavori di ripavimentazione dell'anello della piazza procedono nella ripulitura del reticolo romano, venuto alla luce nel corso delle operazioni di scavo. Scavi che dimostrano, secondo il rappresentante della sovrintendenza Andrea Staffa, che il pavimento dell'arena si trovava a due metri e mezzo di profondità rispetto all'attuale piano calpestabile di Piazza Rossetti. Per Staffa si tratta di un ritrovamento di rilevante importanza da verificare come operare per il meglio nella valorizzazione di questi resti romani. Si svolgerà dal 14 al 22 aprile a Lanciano la quattordicesima settimana della cultura in programma, mostre, visite, musei e convegni. C'è area di cultura a Lanciano e questo lo slogan scelto dall'amministrazione comunale per la quattordicesima edizione della settimana della cultura che dal 14 al 22 aprile aprirà alla città musei e allestimenti di eccezione. Come la mostra inaugurata prima della Pasqua, dedicata alle madonne d'Abruzzo tra Medioevo e Rinascimento. L'assessore alla cultura Pino Valente ha presentato assieme al sindaco Mario Pupillo un cartellone nutrito di appuntamenti, con percorsi archeologici, visite a musei, chiese, monumenti e siti culturali della città. Non mancheranno convegni su diversi temi, dalla storia di Lanciano ricostruita attraverso gli scavi archeologici, alle storie di emigrazione in Argentina e poi un incontro sulla storia dei frentani. Dovrebbe venire, stiamo lavorando per questo, il massimo esperto del popolo frentano che è il professor Adriano La Regina e quindi tanti spunti interessanti e tanti argomenti di discussione. Quindi una settimana della cultura che spazierà a 360 gradi. A chiudere la settimana della cultura sarà il 22 aprile la presentazione del volume Cecenia, la guerra degli altri, della giornalista russa Anna Politoskaya, simbolo della libertà di stampa e vittima della violenza del potere. E siamo alla pagina sportiva per il calcio. In Serie B nella sfida contro il Livorno. Zeman potrà contare su tutti i bianco-azzurri. Unico obiettivo è la vittoria. Torna Pescara a Livorno. Ironia della sorte, ancora una volta, partita determinante per i bianco-azzurri. Chiamati alla sola e unica vittoria per cancellare il periodo negativo e tornare a volare con in testa l'obiettivo della promozione diretta. Nella passata stagione, proprio contro i Toscani, il Delfino fallì ogni speranza di aggancio alle zone nobili della classifica con l'erroraccio del portiere Pinna che segnò il futuro abruzzese. Vinsero infatti i Toscani. Di acqua sotto i ponti, né passata da quel momento davvero tanta, e molti sono pronti a scommettere che stavolta la storia sarà molto diversa con l'impegno che non andrà fallito. Partita comunque difficile e soprattutto delicata. Mister Zeman avrà solo problemi di abbondanza, confidando in un nuovo capitolo della stagione per un rush finale all'altezza della brillantezza e di una lucidità ritrovata, sia in fase difensiva che sotto rete, dove si continua a sbagliare tantissimo. Dunque, tranne Martin, questo il possibile undici. Tra i pali Anania, poi Zanon a destra, Capuano e Romagnoli al centro della difesa, Balzano esterno basso sinistro. Centrocampo composto da Cascione, Verratti e Nielsen. In attacco sulla destra, ballottaggio tra Sansovini e Caprari, bomber immobile al centro, insigni e offensivo sinistro. Avanti tutta allora, col secondo posto ancora vicinissimo e distante solo due lunghezze. Nel Livorno rientreranno Lex, Luci e Belenghieri per fine squalifica. Riflettori puntati anche sul brasiliano Paoligno, che al Pescara piace molto e che un pensierino per il futuro già lo ha fatto da tempo. In Lega Pro, i rossoneri della Virtus Lanciano sono pronti alla sfida di Porto Gruaro con il solo paghera squalificato a centrocampo. Giocherà Bastola. Turchi, tutto pronto per questo rush finale, col Turchi nelle migliori condizioni. Sì, ho ritrovato finalmente la condizione giusta. Le cose stanno girando bene, andremo a Porto Gruaro a fare sicuramente la partita. Ecco, tu che cosa hai ritrovato soprattutto? La tranquillità mentale, la perfetta forma fisica? Che cosa è cambiato? Sinceramente non lo so perché non so cosa mancava. Però sicuramente i 90 minuti erano fondamentali ritrovarli. Quella condizione fisica e mentale credo che sia la base di tutto. Un grande lanciano ultimamente. Un grande lanciano anche perché quando nelle difficoltà andiamo sotto riusciamo sempre a fare quel qualcosa in più che ci permette di scavalcare l'avversario. Quindi sono molto soddisfatto di questi ragazzi. E adesso? E adesso ci giociamo il tutto per tutto e puntiamo al secondo posto. E lanciano la squadra del momento? E lanciano la squadra che più fa paura? Beh, penso proprio di sì. Sì, questo lanciano con la vittoria a Carrara gli altri veramente ci stanno guardando con un altro tipo d'occhio adesso. Quindi Portoguaro si aspetterà veramente un lanciano forte e ce la metterà tutta per batterci anche perché loro si stanno giocando i playoff. E poi Portoguaro reduce da una vittoria strepitosa, incredibile, forse la più clamorosa dell'ultimo turno. Sì, speriamo che si sono appagati. Il Trapani? Il Trapani forse sta in una condizione fisica calante in questo rascio finale però credo che ormai la vittoria del campionato sia ormai fatta. Comunque il bello per il lanciano deve ancora arrivare? Ma sicuramente il bello sarà il raggiungimento dei playoff. Quello è il bello perché dopo dieci anni ritrovare i playoff sarebbe veramente fantastico. A casa cosa si dice? Ma a casa c'è entusiasmo e non si vede l'ora di giocare tutte le partite per sapere veramente cosa sia successo la domenica perché è la sorpresa un po' di tutti, andare a vincere fuori, dentro, fuori, dentro. Quindi c'è veramente entusiasmo. Era l'ultimo servizio, vi ricordo questa sera a partire dalle ore 20 e 30 all'appuntamento con Griglia di partenza. Vi lascio al Meteomax, noi ci vediamo domani, arrivederci. Grazie.